Trasferimento di residenza e iscrizione all'Aire, come si fa a determinare lo spostamento del proprio domicilio dall'Italia nei confronti di un paese estero? Abbiamo detto mille volte, bisogna trasferire il centro degli interessi vitali. Per interessi vitali si intendono gli interessi economici, patrimoniali e familiari. La situazione di un contribuente che si trasferisce viene di solito accertata o dovrebbe essere accertata, se è del caso, dall'agenzia guardandola a tutto tondo. Quindi non possono andare a contestare soltanto un elemento ma devono verificare l'intero quadro che deve però essere coerente. Ed è per questo che quando mi trasferisco devo portare con me i miei interessi economici, le mie aziende, le mie società, i miei interessi patrimoniali, per esempio i miei investimenti, se li posso muovere, se poi devo cambiare interessazione, di vende. Oppure i miei interessi familiari, quindi tendenzialmente se lascio la famiglia in Italia non va bene.